Questa notte è successo un nuovo colpo di scena che riguarda Chiara Ferragni e Fedez I fan vogliono saperne di più. I due hanno rappresentato, per molto tempo, una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo e del web La loro unione e la loro idea di famiglia ha infatti sempre appassionato tutti i followers, che si sono detti enormemente dispiaciuti quando hanno appreso la notizia della loro separazione Dopo essersi sposati e aver messo al mondo i due figli Leone e Vittoria, i due hanno infatti deciso di prendere due strade differenti e di vivere vite completamente autonome Ad aver attirato l'attenzione dei fan è stata però una news del tutto in attesa. Ecco cosa è successo questa notte tra di loro Cosa sta accadendo ai Ferragnez? Il gesto inaspettato, una storia d'amore all'insegna della passione e dei sorrisi, erano stati dipinti così Ferragni e Fedez nel corso del loro matrimonio Sempre molto attivi sui social. Entrambi si mostravano infatti molto spesso insieme ai loro figli e mettevano in evidenza la propria felicità e la propria unione Poi è crollato tutto. Dopo diverse vicissitudini, i Ferragnez si sono improvvisamente separati lasciando nel dispiacere tutti coloro che li hanno sempre seguiti Adesso sono due persone diverse e distinte. Lei si sta godendo le vacanze estive con i suoi amici e la sua famiglia. Mentre lui sta trascorrendo questi giorni tra musica e relax In modo del tutto inaspettato, è però arrivata di recente una segnalazione che è stata pubblicata sul profilo social dell'esperta di gossip di Yanira Marzano Alcuni fan si sono infatti accorti che, questa notte, Fedez ha di nuovo seguito la sua ex moglie su Instagram. E il dettaglio non ha affatto lasciato indifferenti i loro followers I due avevano infatti smesso di seguirsi subito dopo la notizia del divorzio. E Fedez aveva inoltre tolto il follo anche a tutta la famiglia di Chiara Adesso le cose sarebbero però cambiate. Anche se per il momento l'influencer non ha ancora ricambiato il segui I fan sono quindi in attesa di scoprire cosa succederà e se la Ferragni sceglierà di seguire nuovamente l'ex marito Nel frattempo, entrambi si godono le proprie vacanze estive, che sono state sin da subito all'insegna del relax Non sono però mancate le preoccupazioni, dato che Fedez è stato di recente nuovamente ricoverato in ospedale per una nuova emorragia interna Adesso sembra stare meglio. E ne danno dimostrazione i tanti scatti postati in rete e che ritraggono le sue giornate A presto! A presto! A presto! Grazie a tutti.